E' capitato a tutti e capiterà anche quest'anno. Cosa prendo? Quale sarà la decisione giusta? Può sembrare difficile, ma questa volta la scelta può essere più facile di quello che pensi. I ricambi! Voglio i ricambi! Eh ma potevi dirlo subito! Fimauto 8 gemelli, con la BMW e Mini Winter Campaign, puoi approfittare anche del 30% di sconto su una selezione di accessori originali. Oltre alle offerte speciali sui kit completi cerchi e gomme, è il controllo gratuito dell'impianto frenante. Quest'anno pensa alla tua sicurezza e alla tua auto. Ti aspettiamo nei nostri centri service a Verona, Vicenza e provincia. Grazie per la visione! Grazie per la visione!